Ok ragazzi eccoci tornati, siamo nell'app sviluppatore di Brawl Stars per lo sneak peek numero 2 Nel video di ieri siamo andati ad analizzare gli overdrive su tutti i brawler Quindi mi raccomando andate a recuperarvi quel video Quello che faremo quest'oggi è andare a provare tutte le nuove skin Escluse quelle dei nuovi brawler che per quelle ci sarà un video a parte Iniziamo dalle skin, quelle del tema delle terre desolate, dovrebbe esserci scritta Ecco qua, terre desolate, andiamo direttamente su vedi collezione Ecco abbiamo intanto Cordelius Predone Al costo di 5.000 bling, 149 gemme, ma andiamo subito a provarlo Ok si presenta così, costando comunque 149 gemme, anche il colpo è diverso, ok Vabbè ci può stare, skin non incredibile, sicuramente ce ne sono di più belle nell'aggiornamento Vediamo anche la super, beh qua l'animazione è sempre la stessa, il concetto non cambia Comunque carina, anche se personalmente non credo che lo shopperò Ah ovviamente ragazzi vi ricordo in fondo lo shop codice Raxor per supportarmi Scrivetemi poi qua sotto nei commenti tra tutte queste skin qual è la vostra preferita Poi sempre delle terre desolate abbiamo Hank Guaccio Questa qua non sarà acquistabile in bling, solo a 199 gemme Andiamola a provare ovviamente, per quel che riguarda questa skin di Hank Anche qua il colpo cambia un po' particolare Essendo un toro c'è una sorta di... Oddio ma è un... ma cos'è? Io non sto premendo nulla adesso ragazzi, che è sta cosa? Ma credo sia un bug tipo incredibile Cioè nel senso... adesso non l'ha fatto più Ma prima cos'era quella bolla che si stava caricando? Arrivo al massimo Comunque un po' particolare perché vedete che la bolla di... Eh ancora? Ma cos'è? Penso sia un bug tecnico dell'absurpatore Particolare eh? Vabbè non fateci troppo caso Comunque quello che vi stavo dicendo è che vedete che la bolla è più piccola rispetto al cerchio Però in realtà quello che conta veramente è il cerchio esterno Però boh perché ha dimensioni diverse? Non so se anche questo è un bug Qualora non lo fosse già meglio però... Ho visto così vi giuro è stranissimo, mi piace proprio Andiamo a vederla super al volo Fa di questo, ok? Bah vabbè 199 gemme Poi abbiamo Willow, scorpione o 79 gemme O 2750 blinga E dunque eccola qua Il colpo si presenta in questo modo È carina Questa qua di Willow già considerando anche il prezzo e tutto La preferisco molto di più Rispetto ovviamente alle altre che abbiamo visto Molto carino Sia il colpo sia proprio anche la skin come si presenta Vediamo con la super invece Fa di questo Vabbè certo qua non perdiamo il controllo ovviamente dei robottoni Comunque vabbè sotto quell'aspetto non cambierebbe nulla No questa comunque è molto bella Assolutamente promossa E forse la shopperò In realtà ce ne sarebbe anche un'altra di Maisy Che qua purtroppo non mi appare Vabbè ve la lascio a schermo Maisy saccheggiatrice Che sarebbe la skin di Lega delle Stelle Al prezzo di 5000 bling O 149 gemme Immagino che come sempre si potrà shoppare Dopo aver vinto 60 round Su appunto Lega delle Stelle Queste skin saranno le prime ad arrivare dopo l'aggiornamento E in teoria proprio con l'arrivo della nuova stagione 20 Passiamo ora al tema della Brawl Academy Iniziamo intanto con Rosa Cheerleader 5000 bling O 149 gemme Anche qua dovremmo vedere animazioni nuove Vediamo un po' Ok Vabbè qua c'è un po' di lag Non fateci caso al colpo che parte un po' dopo Vabbè comunque carina Vediamo con la super che fa Ecco la super già mi piace molto di più Vi dico anche questa skin che per quel che costa Secondo me c'è di meglio Però vabbè procediamo Abbiamo ora Squeak secchione Sempre a 5000 bling 149 gemme Andiamolo a provare Si presenta in questo modo Il colpo molto carino Uh no il colpo tantissima roba Bella l'animazione Bello c'è proprio tutto Anche la skin in sé per sé Beh è un nerd secchione Classico Quindi il tema è quello Ci sta Vediamo con la super Faccio di questo Lancia Cos'è che lancia? Tipo uno zaino? Vediamo un po' Se è una specie di zaino Ah forse è proprio lo zaino La valigetta che c'è dietro Vediamo un po' Si si direi che è quella Beh comunque è carina Mi piace E poi abbiamo lui Stu sportivo Ecco in questo caso Essendo una skin leggendaria Non è possibile acquistarla in bling Ma solo a 299 gemme Questa però è tanta roba E vorrei anche vedere Con tutto quello che costa Questa qua è di quelle skin Che probabilmente shopperò Bellissimo il colpo Vediamo anche la super Beh anche quella super Ci sta un botto Bella comunque anche la skin Anche il fatto che abbia il dettaglio Della maglietta Con su scritto Stu Beh maglietta È la classica felpa Da liceale Dei film americani No? Comunque bella bella Anche perché qua c'è un pacchetto Con avatar, icone, robe Tra l'altro Nuovo dettaglio Che va assolutamente notato Quando facciamo le uccisioni Con le skin leggendarie Se ora vado a killare il robot Guardate un po' Anche l'animazione Quindi tutte le skin Da 299 gemme Avranno un'animazione Anche in caso di uccisione Queste skin comunque Arriveranno a metà settembre Allora sto registrando Questa clip In un secondo momento Perché quelle che vedrete adesso Sono 3 skin Della stagione 14 Che ritornano Solo che in un primo momento Non me ne ero accorto Anche perché Durante la stagione 14 Era quel periodo In cui avevo messo Brawl Stars da parte E portavo solo contenuti Su StumbleGuys Comunque Iniziamo da Sam Imperatore 5000 bling O 149 gemme Vediamo un po' Come si comporta Il colpo è questo di qua Certo Dove dobbiamo tirare pugni Con questo delay È un po' particolare Comunque Ci può stare Vediamo con la super Cosa combina Lancia una testa Di leone Tipo O quello che è Non so se è proprio Un leone Un po' particolare Vabbè comunque Carina Però anche qua Considerando il prezzo È tutto Se dobbiamo vedere Solo la skin In sé per sé Secondo me ci sta I colpi Non mi fanno impazzire Abbiamo poi Lola malvivente Al prezzo di 5000 bling O 149 gemme Andiamo a vedere Ok Beh questa è molto carina Mi piacciono molto Questi colori Anche il colpo Che in realtà Vedete che C'è una parte Un po' più rosa Viola E una parte Un po' più azzurrina Vabbè con la super Chiaramente caccia fuori Il clone Ed eccolo qua Poi abbiamo Pocho Desperado Sempre 5000 bling O 149 gemme Vediamo un po' Come si comporta Ok beh Molto molto carino Anche lui Bello l'attacco Bella anche la skin Vediamo la super Beh la super è spettacolare Sì Questa assolutamente Va sciuppata Riguardiamo la super Sbam Bella bella Per quel che riguarda Invece queste skin Arriveranno sempre a settembre Penso verso la fine Prima di andare avanti Con le nuove skin Vi faccio vedere Un paio di remodel Ovvero MZ ragazzaccia Altro che remodel Di MZ studentessa Ovvero Di questa skin qua Almeno qua Un design un po' Più accattivante Mi piace Questa uscirà In contemporanea L'aggiornamento E costerà 29 gemme Oppure 1000 bling Andiamola a vedere Anche se Non dovrebbe cambiare nulla Vabbè comunque Vediamola anche in game Come si presenta A livello estetico Eccola qua Carina Il colpo appunto È sempre lo stesso Nel dubbio Verifichiamo anche la super Mai dire mai Eccola qua E ok Beh comunque Come detto Ci sta per quel che costa Alla fine Questo deve essere Non ci possiamo aspettare Incredibile Anzi in realtà È anche un po' più carina Rispetto alla versione precedente Quindi top Ci sarà anche un remodel Di Elfapenni Purtroppo non ve la riesco A far vedere da qua Quindi ve la lascio qua In sovraimpressione Questa comunque Se non mi sbaglio È una skin esclusiva Per cui per ora Non è shoppabile Ma più avanti Chi lo sa Ma andiamo avanti Altre skin Ed ecco qua Mendy Mbook O Mbook Non so come si pronuncia Fatto sta che costerà 5000 bling O 149 gemme Uscirà nel negozio Verso la fine di settembre Ora andiamola a provare Qua abbiamo anche Ci può stare Anche qua Nulla di stravolgente Nulla di incredibile Vediamo con la super Già la super un po' più carina Vediamola anche Da questo lato E bamete Vabbè ci sta bellino Andiamo avanti Con Janet Lunare Ecco questa qua Sarà solo a 199 gemme Skin mitica Quindi questa Mi aspetto che sia Una skin devastante No Vediamo il colpo Si presenta così Ok beh Non è male Mi piace molto Questa scia oscura Non è oscura È semplicemente Tipo la notte No Vediamo la super invece Che cosa fa Va a tirare Queste robe lunari Che comunque lasciano a terra Anche questo cerchio Molto carino 199 gemme Direi che le vale tutte E anche questa Uscirà alla fine di settembre E infine chiudiamo Signori Ultima skin Abbiamo lui Beh beh Cambia anche la voce Edgar Mecha 299 gemme Qua Bella costosa Però skill leggendaria Quindi No vabbè ci sta che abbiano cambiato anche la voce Dai effettivamente Se è Mecha Il colpo si presenta così Questa qua ragazzi Fa scioppata per forza Ecco giustamente Devo dirvi qual è secondo me La migliore skin Di questo aggiornamento E direi che è questa Assieme a quella di Stuma Guarda caso Sono anche le più costose No Tra l'altro Non so se avete notato Anche qua Quando facciamo la kill C'è questa animazione di oh Qua sulla kill Quella di Stu Ha decisamente la meglio Vediamola super invece Saltellino così Molto carino Eh questa Questa va presa Per forza Io la prenderò Questa comunque uscirà All'inizio di ottobre Ok rica Direi che abbiamo visto Tutte quante le nuovissime skin Fatemi sapere giù nei commenti Ovviamente qual è quella Che preferite di più Quella o quelle che shopperete Per il resto Mi raccomando Un bel like Iscrizione con campanellina Restate sintonizzati Perché ancora gli sneak peek Non sono finiti ovviamente Anzi forse Ne arriverà un altro proprio oggi Quindi mi raccomando A più tardi Bellissima